Ok. Ciao, spettatori. Sono Seed Baby. Per favore, fatemi arrivare all'ultimo round. Non deludetemi e io non vi deluderò. Promesso. Andiamo, gridate! Qui a Staten Island si fa sul serio! Ecco, Seed è tornata al suo blotto! Ok, ok! Brave, ragazze! Pronte per il gran finale! Oh! 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 Oh, mamma mia, che belle chiappe! Ok, grazie mille! Sì!